Il corso Leading Change. Ispirare e guidare il cambiamento si distingue per la capacità di fornire strumenti pratici per affrontare contesti complessi, caratterizzati da molte variabili e decisioni rapide. Aiuta a sviluppare capacità di analisi, prioritizzazione e semplificazione, riducendo il rischio di overthinking e stress che compromettono le performance. Il focus sullo sviluppo di uno stile di leadership che combina supporto e stimolo all'autonomia, delega, fiducia e orientamento ai risultati è fondamentale per creare un ambiente di lavoro agile e proattivo. Il continuo feedback proposto migliora la crescita personale e professionale dei collaboratori. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.